Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovo video di news su Dragon Ball Xenoverse 2. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare il video e il mio canale YouTube e se siete nuovi correte subito ad iscrivervi. Nuovo video news su Dragon Ball Xenoverse 2 perché è stato rilasciato un nuovo video, un nuovo trailer direttamente dal Japan Expo, quindi un gameplay direttamente dall'evento che si sta svolgendo in Giappone. In questo video potremo vedere tre importantissime trasformazioni. La prima in ordine cronologico è legata al nostro alter ego, quindi il personaggio che noi creeremo potremo vederlo potenziare e trasformare in Super Saiyan di terzo livello. Infatti ne avevamo già parlato nel primo video news di Dragon Ball Xenoverse 2. Il nostro personaggio, a differenza del primo capitolo, potrà trasformarsi in Super Saiyan di terzo livello, quindi qualche cosa veramente di devastante. Nella seconda parte del gameplay di questo trailer gameplay invece è mostrata la trasformazione di Golden Frieza, quindi qualche cosa di assurdo, devastante e veramente ignorante perché diventa qualche cosa di cattivo e velocissimo da quello che vediamo, ma soprattutto fa la sua classica mossa finale assurda. Mentre nella parte finale del video potremo assistere da quello che mi sembra a una doppia trasformazione di Majin Buu, perché passa dalla forma cicciottella, quindi quando è bella abbondante, alla versione magra e quindi una vera e propria trasformazione in Kid Buu, come praticamente poi abbiamo potuto vedere nei vari fumetti. Quindi tre importantissime trasformazioni, Golden Frieza, Kid Buu e il nostro personaggio in Super Saiyan di terzo livello. Fatemi sapere che cosa ne pensate dopo aver visto questo video e quale di queste tre trasformazioni svelate vi piace di più e rimanete costantemente aggiornati sul mio canale YouTube per tutte le ultimissime notizie del mondo di Dragon Ball Xenoverse. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.